Bene, riprendiamo i lavori, dunque ora do la parola a professore Nadia Robotti su Corvo da Roma a Parigi e oltre. Allora, prima cosa ringrazio per l'invito che abbiamo accettato con grande piacere. Ecco, questa è un'immagine di Bruno Pontecorvo in uno dei suoi numerosi passaporti, perché è stato un grandissimo e instancabile viaggiatore. Ecco, Bruno Pontecorvo, innanzitutto una premessa, la relazione che presento è fatta tutta su documenti originali. Incominciamo appunto dal certificato di nascita, per quello mi è venuto in mente. Bruno Pontecorvo, come lui stesso racconta, nasce il 22 agosto del 1913 a Pisa, fra virgolette vuol dire che lo dice lui, in una numerosa famiglia benestante. Il padre, industriale, la madre, figlia di un medico, cinque fratelli e tre sorelle, tra i quali notissimi il biologo Guido e il regista cinematografico Gillo. Consegue la maturità classica presso il Reggio Liceo di Pisa nel 1929. Dopo aver frequentato i primi due anni della scuola di ingegneria, decide di iscriversi a Fisica. Il fratello Guido gli consiglia di andare a Roma, lì ci sono fermi e rasetti. E così Pontecorvo, dopo aver preso gli opportuni contatti, si trasferisce a Roma. Ecco, assistiamo qui alla prima delle numerose scelte di Bruno Pontecorvo, che è anche, a nostro avviso, l'uomo delle scelte, oltre che, dal punto di vista scientifico, l'uomo dei neutrini. Certamente avrà avuto molto peso l'idea che, su questa scelta di trasferirsi da Pisa a Roma, l'idea che Roma, rispetto a Pisa, era in quell'epoca un centro di grandi aspettative scientifiche, già sede di avanzate e ben assistate linee di ricerca sulla spetroscopia e sulla fisica teorica, ma anche sede proponente di nuove ricerche su una delle fontiere più importanti in quegli anni, cioè quella della fisica nucleare. Infatti, proprio nell'ottobre del 1931, quando appunto Pontecorvo sta per decidere di trasferirsi a Roma, fu organizzato a Roma, da parte di Fermi e Corbino, un importante convegno internazionale di fisica nucleare, il primo in assoluto nella storia scientifica, ed era stato organizzato proprio per lanciare la fisica nucleare in questa città, e in Italia soprattutto. Il trasferimento di Pontecorvo avviene nel corso dell'anno accademico 31-32, con un effetto ufficiale, come abbiamo visto dai documenti, dal 14 maggio del 32. Viene immatricolato per l'anno accademico 31-32 al terzo anno di matematica e fisica. Qui abbiamo la carriera scolastica, l'abbiamo trovato nell'archivio studenti alla Sapienza. Si laurea il 10 novembre del 1933, con 110 elode su 110, a soli 20 anni d'età. È giovanissimo. Il titolo della tesi è Ottica geometrica dell'elettrone e microscopio a elettroni. Qui appunto sono i processi verbali della sua laurea. Ecco, il certificato di laurea è molto importante, perché si vede che si è laureato in matematica e fisica, appunto con la votazione di 110 su 110 elode, il 10 novembre 1933. Stranamente, in molte importanti ricostruzioni storiche, la data di laurea viene erroneamente posticipata all'estate del 34. Come... No, 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 vada a leggersi a Maldi, dice, lui si è laureato nel 1934. In tutte le ricostruzioni noi abbiamo... E questo era un tormentone che avevamo sin dall'inizio. Lui si è laureato il 10 novembre del 1933. E viene detto che si è laureato nel 1934. Cioè, come se un anno di un'attività che vedremo che è molto importante, perché è sugli elettroni lenti, viene cancellata. Comunque, questo è un dato di fatto. Abbiamo trovato il certificato di laurea, si è laureato il 10 novembre del 1933. Dopo la laurea, ottiene un'assistemazione come assistente e si mette subito al lavoro. Non deve prestare il servizio militare perché rientra nelle disposizioni della ferma minima. E questo è il certificato. Siamo alla fine di novembre del 1933. E le ricerche a Roma nel settore della fisica nucleare non sono ancora pienamente decollate. Mentre invece è sempre presente l'antica tradizione in spettroscopia. Il coinvolgimento di Pontecorpo nelle attività di ricerca dell'Istituto nel periodo tra il sconseguimento della laurea 10 novembre 1933 e l'estate 1934 è molto intenso, vario e articolate, ma sempre su temi di spettroscopia atomica. In particolare collabora le ricerche di Emilio Segret sull'effetto Zeeman quadratico nella serie principale del sodio ricevendone i ringraziamenti, sia in una lettera, in queste due pubblicazioni. Inoltre collabora le ricerche di Amaldi assieme a Segret sullo spostamento dei termini elevati delle serie di assorbimento dei vapori di sodio e di potassio per effetto di un gas estraneo, occupandosi in particolare delle bande di assorbimento dell'idruro di sodio, lui lavora nelle stesse condizioni sperimentali utilizzate da Amaldi e Segret, come viene riconosciuto in questo lavoro di Amaldi e Segret sul nuovo cimento del marzo del 1934 che ho citato prima. Amaldi e Segret avevano intenzione di investigare con il loro metodo anche l'azione dei vapori metallici sullo spettro degli alcalini, però non proseguono su questa ricerca perché sono coinvolti nella collaborazione con Fermi sulla radioattività indotta da bombordamento con neutroni che appunto Fermi aveva appena scoperta. Ponte Corvo no. E questa ricerca verrà lasciata appunto a Ponte Corvo. La scoperta di Fermi avviene il 20 marzo del 1934 ed è annunziata con una lettera alla ricerca scientifica datata 25 marzo. La seconda lettera di Fermi che segue dopo un paio di settimane già riconosce che per la parte fisica hanno collaborato i dottori Amaldi e Segret, cioè questo coinvolgimento immediato di Amaldi e Segret. La lettera successiva, che sarebbe la terza del 10 maggio, porta le firme di Amaldi, adesso anche d'Agostino, Fermi e anche Rasette, oltre che Segret, e contiene già l'ipotesi degli elementi trasuranici. Quindi Ponte Corvo, che pur è ben presente e attivo nell'istituto, non viene coinvolto in questa prima fase delle ricerche nucleari, ma eredita la strumentazione spettroscopica di Amaldi e Segret e porta a compimento lo studio sperimentale dell'azione dei vattori metallici, in particolare il mercurio, sullo spettro degli alcalini, lasciato in sospeso, come abbiamo visto prima, da Amaldi e Segret, pubblicando da solo i suoi risultati sui rendiconti lincei nel luglio del 1934, in una nota presentata dal socio linceo Orso Mario Corbino. Ecco, questa è la prima pubblicazione di Bruno Ponte Corvo a 21 anni. È una pubblicazione a solo suo nome e su una rivista di prestigio, quale appunto erano i rendiconti lincei. Esistono aspetti peculiari di questo lavoro di Ponte Corvo che avranno conseguenze sugli sviluppi futuri. Amaldi e Segret, come abbiamo visto, avevano scoperto e studiato sperimentalmente un importante fenomeno spettroscopico, cioè i termini spettroscopici elevati dei vapore dei metalli alcalini subiscono sensibili spostamenti rilevabili appunto da misure in assorbimento a causa della presenza di un gas estraneo a diverse pressioni. L'origine fisica del fenomeno è ben complessibile velocemente. Le orbite elevate dell'elettrone ottico degli alcalini hanno dimensioni considerevoli, i cosiddetti atomi grassi, e possono comprendere al loro interno numerosissimi atomi del gas estraneo, i quali interagiscono con l'elettrone ottico e producono uno spostamento dei livelli energetici rilevabile negli spettri di assorbimento, come appunto hanno visto per primi, come hanno studiato, Amaldi e Segret. La corretta interpretazione teorica quantistica del fenomeno viene subito data da Fermi in un lavoro sul nuovo cimento dell'inizio del 1934. Fermi dimostra che lo spostamento dei livelli energetici può essere espresso tramite la sezione d'urto di un elettrone di bassissima energia, e qui il punto cruciale, un elettrone lento, con gli atomi del gas perturbatore. È molto significativo che nel caso considerato da Ponte Corvo, cioè dove il gas estraneo è costituito proprio dai vapori di mercurio, questa sezione d'urto cresce rapidamente al diminuire dell'energia degli elettroni, come era noto appunto sperimentalmente, con misure dirette fino all'energia di circa 0,5 elettronvolta. Quindi Fermi e anche Ponte Corvo sapevano bene, avendo studiato questi problemi spetroscopici, che le sezioni d'urto, in certi casi, possono avere grandi incrementi al diminuire dell'energia della particella incidente. Insomma, il comportamento degli elettroni lenti prelude a quello che sarà poi il comportamento dei neutroni lenti. Nel lavoro di Ponte Corvo troviamo il seguente grafico della sezione d'urto in funzione della velocità. È veramente impressionante, sembra una profezia. Cioè, vedete che l'andamento della sezione d'urto per un elettrone su un atomo di mercurio in funzione della velocità, quando la velocità tende alla zera, hai un drammatico incremento. Cioè, è molto più facile avere la reazione. Le profonde conoscenze sul comportamento degli elettroni lenti nella primavera del 34 hanno, a nostro avviso, certamente giocato un ruolo nel contributo di Ponte Corvo nella scoperta degli effetti dei neutroni lenti nell'ottobre del 34. Quindi, far laureare Ponte Corvo nell'estate del 1934, invece che novembre del 33, significa di fatto cancellare un pezzo importantissimo della sua esperienza di ricerca, proprio quella sugli elettroni lenti. Come si è detto, a marzo del 34 e precisamente nel pomeriggio del 20 marzo, mentre Ponte Corvo si occupa di questi problemi, Fermi, a Roma, lavorando da solo e guidato dalla sua teoria sul decadimento beta, scopre la radioattività indotta da neutroni, cioè la possibilità di creare artificialmente, utilizzando i neutroni, nuovi elementi radioattivi che non esistono in natura. La strumentazione usata da Fermi è molto semplice. Si tratta di un assolgente di neutroni con cui raggiare il campione e di un contatore Geiger-Müller con cui misurare l'eventuale radioattività indotta nel campione. Le sorgenti di neutroni usate erano del tipo radon-beriglio ed erano costituite, come dice Fermi, da tubi capillari di vetro lunghi 15 mm di diametro interno 0,2-0,3 mm, riempiti di emanazioni di radio che serviva come sorgenti di particelle alfa e polvere di beriglio, introdotti a loro volta in lunghi tubi di vetro per essere facilmente manovrate in sicurezza. Eccole qua sotto. Queste sono le sorgenti. Erano regolarmente fornite queste sorgenti ogni martedì a partire dal 20 marzo del 34 da Giulio Cesare Trabacchi che era il direttore del laboratorio fisico dell'Istituto di Sanità Pubblica che era situato proprio al piano terreno e nel seminterato dello stesso edificio dell'Istituto di Fisica in via Panisperna. Quindi c'era anche questa coincidenza favorevole. Erano sorgenti, come veniva detto, che stavano in una mano e con questi oggetti è riuscito a fare una scoperta da primo e nove. Ecco, queste sono le sorgenti che ci sono rimaste e sono conservate alla Domus Galileana. Questo è un ingrandimento appunto dove si vedono i tubicini con la polvere di beriglio che vengono mantenuti fissi con dei batuffoli di ovatta. Sono ancora attive adesso. Poiché le sorgenti di neutroni erano deboli, per aumentarne l'efficacia, perché il neutrone è frutto di una reazione nucleare a differenza delle alfa, per aumentare l'efficacia di queste sorgenti, Fermi sfrutta la geometria. Il campione è sotto forma di un cilindro cavo e la sorgente viene messa dentro il campione. Cioè, in questo modo utilizza l'intero angolo solido. Ecco, questo è uno schizzo di Fermi sulla destra sulla disposizione dell'irraggiamento. Vedete che c'è questo, il suo cilindro e questa è la sorgente che irraggia in tutte le direzioni. Il contatore Geiger era appunto il contatore Geiger-Mure costruito personalmente da Fermi con una tecnica che aveva imparato da Bruno Rossi il quale aveva a sua volta imparato da Botte a Berlino. Anche per livellare l'eventuale attività indotta che si aspettava essere debole Fermi usa la sorgente cioè il contatore viene posto dentro al campione irraggiato. In questa maniera lui sfrutta metà dell'angolo solido e infatti le dimensioni con le quali lui fa i contatori sono ben studiate proprio perché stiano dentro a questi campioncini. La scoperta di Fermi della radioattività indotta da neutroni sconvolge il panorama delle ricerche sperimentali portate avanti fino a quel momento a Roma in particolare quelle di Amaldi di Segredi e Rasetti provocando un loro immediato e totale riorientamento verso la fisica nucleare come abbiamo prima detto. Solo quelle di Ponte Corvo continueranno ancora per alcuni mesi a vertere sulla spettroscopia atomica. La scoperta di Fermi riguardava inizialmente due soli elementi leggeri l'alluminio e il floro. Poiché i neutroni possono penetrare con facilità all'interno degli atomi essendo senza carica anche appunto quelli più pesanti si trattava ora per Fermi di cercare di attivare il più grande numero possibile di elementi. In questa operazione Fermi si avvale immediatamente in ordine temporale di D'Agostino che appunto era un giovane chimico di Roma che aveva passato un breve periodo all'Istituto Radium a Parigi per apprendere le tecniche radiochimiche poi in seguito di Amaldi e Segret e successivamente di Rasetti. Come risultato di questo lavoro di gruppo entro l'estate del 34 vengono attivati e studiati oltre 40 elementi su 60 elementi esaminati. in questa prima frenetica ed esaltante fase delle ricerche Ponte Corvo non viene coinvolto come abbiamo detto. Sarà chiamata a partecipare solo nel settembre del 34 dopo appunto che avevano già fatto 40 elementi alla fine delle vacanze estive. Giusto in tempo però per diventare uno dei protagonisti più importanti dopo Fermi di una scoperta cruciale che verrà fatta di lì a poco e che assieme a quella della radioattività indotta da neutroni varrà a Fermi nel 1938 il premio Nobel per la fisica cioè la scoperta dell'effetto del rallentamento dei neutroni. Come raccontano Segre Amaldi fino all'estate del 34 l'attività indotta nei vari elementi era stata classificata in modo molto qualitativo con la definizione di forte media e debole. Tale classificazione ovviamente non poteva essere considerata soddisfacente e così alla ripresa dei lavori dopo l'estate viene deciso di stabilire una scala quantitativa di attivabilità. Questo compito è affidato ad Amaldi e a Ponte Corvo che entra così finalmente a far parte del gruppo. Ricordo Ponte Corvo fui molto contento quando dopo che fui tornata a Roma dalle vacanze mi fu chiesto di dare un aiuto negli esperimenti sui neutroni. Come primo passo Amaldi e Ponte Corvo cercano di stabilire le condizioni ottimali di raggiamento prendendo come campione un cilindretto d'argento quello che vi ho fatto vedere prima e la sua attività di 2,3 minuti. Sin dall'inizio però si accorgono che è molto difficile riprodurre i risultati. In particolare secondo quanto scriverà Amaldi un monumentale lavoro del 1984 nella camera oscura dove usualmente noi reggiavamo le sostanze c'erano certi tavoli di legno vicino allo spetroscopio che avevano delle proprietà miracolose. Come aveva osservato accidentalmente Ponte Corvo l'argento irraggiato su quei tavoli acquistava molta più attività rispetto a quando veniva irraggiato sull'usuale tavolo di marmo nella stessa stanza. Questi risultati riportati quotidianamente a Fermi e gli altri furono amichevolmente ma nello stesso tempo fortemente criticati da Rasetti il quale in una sorta di presa in giro insinuò che io e Ponte Corvo non eravamo capaci di realizzare misure chiare e riproducibili. Per risolvere il mistero Amaldi e Ponte Corvo decidono di fare un'indagine sistematica in cui il cilindretto d'argento viene irraggiato a distanze diverse dalla sorgente secondo certe geometrie e ponendo la sorgente e il cilindretto sia dentro un castelletto di mattoni di piombo spesso 5 cm sia fuori. I risultati di queste misure sono riportati in un quaderno di laboratorio ora depositato alla Domus Galileana di Pisa indicato come registro B1 e mostrano come appunto aveva osservato Ponte Corvo che l'attivazione decresce con la distanza dalla sorgente più lentamente quando l'irraggiamento viene fatto dentro al castelletto in qualche maniera questi neutroni vengono rallentati. Scrive Ponte Corvo Amaldi e io eravamo assolutamente sicuri sul fatto che l'influenza del piombo fosse reale e non erano noi soli anche Fermi era convinto. Questa è la prima pagina del quaderno e questa è un'altra pagina in cui danno informazioni sia sulla sorgente usata e sia in basso c'è il disegno del castelletto. Ecco qui il racconto di Ponte Corvo che si trova a riscontro poi in quanto affermato anche da Fermi. Alcuni giorni più tardi Fermi stesso venne coinvolto nella risoluzione del ministero del piombo e gli propose di misurare l'attività indotta nel cilindro d'argento quando un sottile cuneo di piombo spesso alcuni centimetri era inserito tra il cilindro e la sorgente. Il cuneo era già pronto ma né Fermi né nessun altro fece misure con esso. Senza dir niente a nessuno Fermi decise di misurare la radioattività del cilindro d'argento facendo passare i neutroni provenienti dalla sorgente invece che attraverso il cuneo di piombo attraverso un cuneo di parafina delle stesse dimensioni con lui stesso si era rapidamente procurato. Il risultato fu molto chiaro l'assorbitore di parafina non reduceva l'attività ma decisamente la faceva aumentare. Fermi ci convocò tutti e disse questo probabilmente avviene a causa dell'idrogeno della parafina in questo modo quindi con un improvviso cambiamento di programma l'effetto della parafina viene finalmente scoperto e ciò accade come testimoniato da questo quaderno il sabato del 20 ottobre 1934. Queste sono le registrazioni di Fermi su questo quaderno in cui vedete con la parafina l'attività ad esempio è di 81 senza parafina in 49 quindi c'è un aumento incredibile della radioattività. Il successivo lunedì 22 ottobre del 1934 la scoperta viene comunicata agli altri componenti del gruppo immediatamente viene inviata una lettera alla ricerca scientifica dal titolo azione di sostanze idrogenate sulla radioattività provocata da neutroni firmata in ordine Fermi Amaldi Pontecorvo Rasetti Sagret col nome di Fermi ovviamente messo giustamente al primo posto e gli altri nomi a seguire in stretto ordine alfabetico come a dire che la scoperta è stata fatta da Fermi ma il contributo degli altri è doverosamente riconosciuto anche di Pontecorvo che è l'ultimo arrivato in questa lettera che rappresenta l'entrata ufficiale di Pontecorvo nel gruppo viene avanzata per la prima volta l'idea che la causa del fenomeno siano i neutroni lenti cioè i neutroni rallentati dagli urti contro gli atomi di idrogeno della paraffina o delle altre sostanze idrogenate i quali neutroni sono più facilmente catturati dai nuclei di quelli veloci questa è la lettera della scoperta degli effetti dei neutroni lenti affirma appunto come vi ho detto è molto interessante adesso una breve parentesi paragonare due pagine di lavori di Fermi apparsi sul nuovo cimento a distanza di pochi mesi la prima pagina che risale alla primavera del 1934 si riferisce al lavoro di Fermi sull'interpretazione teorica di quella che vi ho detto all'inizio dello spostamento dei livelli alti dei vapori di metalli alcalini sotto l'azione di un gas estraneo che erano stati studiati appunto da Amaldi Segret e poi da Ponte Corvo nella figura Fermi rappresenta l'andamento della funzione d'onda di un elettrone lento nel campo di un atomo del gas perturbante nella seconda figura che risale al novembre del 1934 vi è la rappresentazione della funzione d'onda di un neutrone lento sotto l'azione del nucleo contro cui urta e vedrete che le due figure sono identiche eccole anzi in questo articolo appunto del novembre Fermi riprende proprio la stessa figura che aveva usato per i metalli alcalini e li applica nel caso della radiatività quindi Fermi è ben chiara l'analogia tra il comportamento degli elettroni lenti e dei neutroni lenti gli è anche ben chiara la possibilità che le sezioni d'urto per gli elettroni possano aumentare al diminuire della velocità come nel caso studiato da Ponte Corvo cioè i vapori di mercurio quindi l'idea che se qualcosa di simile potesse accadere anche per i neutroni lenti come succedeva per gli elettroni certamente deve essere sorta in maniera naturale nella mente di Fermi e di Ponte Corvo e l'ha fatto cambiare l'idea dal piombo alla parafina insomma gli elettroni lenti a Roma nella primavera del 34 sono una sorta di preludio ai neutroni lenti a Roma nell'autunno del 34 l'efficacia dei neutroni lenti venne provata anche su campioni di materiale che fino ad allora non si era riusciti ad attivare i risultati erano sorprendenti questi materiali diventavano subito attivi effetti miracolosi ovviamente si avevano anche utilizzando come schermo tra la sargente e il campione della semplice acqua e famosi sono gli esperimenti effettuati nella fontana dei pisci rosti nel giardino di via Pannisperna così come viene narrato anche un po' di leggenda ecco questa è la fontana dei pisci rossi una fotografia d'epoca e questa invece è la fontana che è stata miracolosamente salvata la quale è stata riconosciuta il 20 aprile del 2012 sito storico della società europea di fisica e nella foto vedete la cerimonia e c'è Luisa Cifarelli che era appunto a quel momento presidente dell'European Physical Society e del centro ferro poi Giorgio Napolitano e Atos De Luc bene il brevetto il primo a rendersi conto dell'importanza strategica della scoperta è Urso Mario Corbino direttore allora dell'istituto di fisica di Roma che consiglia di brevettare le parti del lavoro che erano brevettabili a distanza di soli quattro giorni dalla pubblicazione della lettera alla ricerca scientifica il 26 ottobre del 34 viene depositata al ministero delle corporazioni ufficio della proprietà intellettuale la domanda per il brevetto privativa industriale che vediamo nella prossima pagina riguardante il metodo per accrescere il rendimento dei procedimenti per la produzione di radioattività artificiali mediante il bombardamento con neutroni questo è il brevetto di cui aveva parlato prima Walter Tega gli intestatari del brevetto registrato poi il 2 febbraio del 35 erano i firmatari della lettera quelli appunto che avevano firmato alla ricerca scientifica oltre che Oscar D'Agostino che è il primo e sempre presente collaboratore di Fermi e Giulio Cesare Trabacchi che aveva fornito le sorgenti di neutroni la domanda di attestato di privativa industriale e gli altri documenti del brevetto stranamente sono assenti dall'archivio centrale dello Stato dove la relativa cartella è vuota e dichiarata segretata ancora dopo circa 80 anni cioè queste sono le anomalie che uno trova negli archivi fortunatamente però tutti i documenti sono presenti nell'archivio del Dipartimento di Fisica a Roma quello di Amaldi e nell'archivio Fermi a Chicago questo è il brevetto che viene steso alle principali nazioni industriali compresi Stati Uniti e Canada e qui la registrazione richiesta in Germania il 27 ottobre 35 ma ottenuta ufficialmente solo nel settembre del 1939 a guerra iniziata notare appunto con quella pallina nera la censura posta dalle attuali autorità tedesche al simbolo del Reich il suggerimento di Corbino fu formidabile il brevetto si mostrerà molto utile per gli inventori quando i neutroni lenti verranno applicati sistematicamente per l'energia nucleare e per la produzione di nuovi isotopi radioattivi subito dopo la guerra di fronte al suo mancato riconoscimento da parte delle autorità americane venne avviato da parte dei depositari del brevetto un procedimento giudiziario che si risolse nel 1953 con il risarcimento complessivo di circa 400.000 dollari la quota per ciascun inventore tolte le spese legali era di circa 24.000 dollari scriverà Ponte Corvo nel 1988 il brevetto fu venduto anni dopo al governo degli Stati Uniti per una cifra rispettabile da molto tempo versata agli inventori ma per ora non a me in realtà la quota di Ponte Corvo fu lasciata a disposizione come abbiamo visto dalle carte dalle autorità americane ma Ponte Corvo forse non l'ha mai saputo e quindi non l'ha mai reclamata comunque c'è la sua quota per Ponte Corvo l'essere riuscita a collaborare in una posizione di primo piano alla scoperta dell'effetto del rallentamento dei neutroni pur essendo l'ultimo arrivato nel gruppo è stato certamente un grande successo dal primo novembre del 1934 fino al 30 giugno del 35 è nominato assistente incaricato presso il regio istituto di fisica dell'università di Roma verrà riconfermato l'anno successivo dal 29 ottobre del 35 fino al 28 giugno del 36 dopo la scoperta dei neutroni lenti il ruolo di Ponte Corvo all'interno del gruppo diventa sempre più importante il 7 novembre del 34 sul problema dei neutroni lenti viene inviata alla ricerca scientifica una seconda lettera intitolata effetto di sostanze idrogenate sulla radioattività provocata da neutroni 2 questa volta ha soli tre nomi Fermi Ponte Corvo Rasetti e rappresenta un grandissimo riconoscimento per l'assistente incaricato Ponte Corvo che si trova da solo in mezzo ai due professori del gruppo Rasetti era anziano come Fermi il ruolo di Ponte Corvo nella scoperta quindi sembra essere stato maggiore di quanto traspaia nei resoconti che ne sono stati fatti vi faccio vedere una lettera scritta da Fermi Fermi una lettera inviata da Roma dal 12 novembre del 38 in concomitanza con la sua assegnazione del premio Nobel scriveva a Ponte Corvo chiamandolo per nome caro Bruno grazie di cuore del suo telegramma e grazie anche per la collaborazione nei nostri lavori di tre anni fa quindi per meritarsi questo inusuale molto speciale ringraziamento di Fermi che pur di non ringraziare non so cosa faceva il ruolo di Ponte Corvo deve essere stato davvero importante ecco questa è la seconda lettera appunto firmata Fermi Ponte Corvo Rasetti sembra proprio in ordine alfabetico in questa seconda lettera vengono comunicati i risultati di alcuni esperimenti fatti per verificare in modo sistematico alcune questioni aperte tutte poi confermate riguardo a questi neutroni lenti vabbè l'azione delle sostanze idrogenate se è dovuta effettivamente alla diffusione e al conseguente rallentamento dei neutroni e se i neutroni lenti essendo così efficaci nell'attivare le sostanze sono anche molto assorbiti vabbè questa questione viene verificata molto brillantemente da Ponte Corvo con questa attrezzatura e da questa indagine appunto risultava che esistono enormi disparità nel potere assorbente dei vari elementi per i neutroni lenti subito dopo la pubblicazione di questa seconda lettera alla ricerca scientifica viene avviata a Roma un'indagine sistematica sull'azione delle sostanze idrogenate a cui partecipano tutti i componenti del gruppo ma con compiti diversi Ponte Corvo in particolare si occupa del comportamento dei neutroni lenti pubblicando nell'aprile del 35 sul nuovo cimento a solo suo nome l'articolo sulle proprietà dei neutroni lenti è impressionante come nel giro di pochi mesi sia riuscito a ritagliarsi un proprio spazio autonomo attraverso una serie di esperimenti approfondisce alcune questioni già parte affrontate nella lettera conferma e rasetti e riguardanti sempre appunto l'efficienza dei neutroni lenti la loro diffusione la loro energia e anche interessandosi all'effetto di sostanze non nitrogenate ecco questo è il suo articolo sulle proprietà dei neutroni lenti particolarmente significativo è lo studio della diffusione dei neutroni lenti fino allora mai affrontato e qui si inventa una nuova disposizione sperimentale molto efficace comunque l'inserimento di Ponte Corvo nell'attività di gruppo non riguarda solo il comportamento dei neutroni lenti ma è totale perché con la scoperta dei neutroni lenti viene ricominciata da capo l'analisi sull'attivazione dell'intera tavola periodica a cui Ponte Corvo ora partecipa e partecipa anche intensamente il suo nome infatti è presente nelle ultime quattro lettere sull'argomento inviate fra il 6 dicembre 34 e il 14 giugno 35 alla ricerca scientifica e firmata appunto da tutti in ordine alfabetico compreso Fermi come pure nel lavoro globale inviato ai proceeding della Royal Society il 15 febbraio del 35 insomma Ponte Corvo è a pieno titolo inserito in queste attività spettacolari ecco questo è l'articolo sui proceeding della Royal Society Fermi nella sua Nobel Lecture del 38 ringrazierà tutti i suoi collaboratori compreso Ponte Corvo nello stesso modo in ordine alfabetico indipendentemente dalla loro posizione accademica e dalla loro anzianità cioè cita così i suoi collaboratori neanche il nome Amaldi D'Agostino Ponte Corvo Rasetti Segre e questo forse per Ponte Corvo il più bel riconoscimento naturalmente Travacchi è ringraziato a parte per aver fornito le esorgenti l'11 marzo del 35 quando bisogna stare attentissimi alle date quando Ponte Corvo è in piena attività è appunto è appena apparso sul nuovo cimento il nuovo lavoro sui neutroni lenti e sta partecipando a tutte le ricerche di gruppo esce il bando per 16 borse di studio per l'estero del Ministero dell'Educazione Nazionale quindi l'11 marzo la scadenza delle domande è il 30 aprile 1935 Ponte Corvo ha ancora la possibilità di rinnovo per un altro anno del posto di assistente incaricato a Roma che gli scadrà il 30 giugno del 35 e le borse vengono bandite ogni anno quindi c'è tempo quindi non c'è urgenza invece Ponte Corvo fa domanda non solo fa anche domanda per una borsa per studi di perfezionamento nel regno che viene bandita sempre nell'anno 35-36 come si vede dalla raccomandata che gli è stata inviata dal Ministero dell'Educazione Nazionale il 19 ottobre 35 e che la troviamo all'archivio a Cambridge in entrambi i concorsi Ponte Corvo si classifica al primo posto con punti 30 su 30 che era il massimo con questa raccomandata gli viene anche comunicato che ha tempo 30 giorni per scegliere tra le due borse cioè all'estero o in Italia e per indicare nello stesso tempo l'istituto nazionale o straniero nel quale desidera compiere gli studi di perfezionamento lui quindi deve dare un'indicazione ecco questa è la raccomandata che gli fanno pervenire del ministero gli arriva da una seconda raccomandata inviatali dal ministero dell'educazione nazionale questa volta il 13 febbraio 36 risulta che Ponte Corvo ha fatto le cose in regola rispettando i tempi richiesti cioè ha fatto tutto entro il 18 novembre del 35 ovvero ha optato per la borsa di perfezionamento all'estero e ha comunicato la sede dove si reccherà che è l'istituto del radio di Parigi troviamo infatti scritto questo ministero si dichiara informato delle comunicazioni fatte da vostra signoria e le conferisce una borsa di lire 11.000 per compiere studi di perfezionamento in fisica nucleare presso l'istituto del radio di Parigi durante l'anno accademico 1935 36 vostra signoria dovrà raggiungere la sede prescelta per i suoi studi entro un mese dalla data della presente comunicazione cioè lui deve andare a Parigi entro il 12 marzo del 36 altrimenti decadrà dal diritto e questa è la seconda raccomandata all'inizio delle vacanze estive del 35 il gruppo di lavoro che si era formato intorno a Fermi intorno al problema della radioattività indotta da neutroni incomincia a sciogliersi Resetti si reca negli Stati Uniti alla Columbia University per restarci almeno un anno Segre va negli Stati Uniti e al suo rientro alla fine dell'estate si trasferisce all'Università di Palermo dove nel frattempo ha vinto la cattedra di fisica sperimentale quindi a Roma alla fine dell'estate restano soltanto Fermi Amaldi e Ponte Corvo oltre ad Agostino che troverà presto una sistemazione stabile presso l'Istituto di Chimica del CNR a Roma Ponte Corvo continua a occuparsi dei neutroni lenti e nella seconda metà del 1935 pubblica sulla ricerca scientifica di nuovo a solo suo nome l'articolo ricerca sugli assorbimenti dei neutroni lenti ringrazia Trabacchi per le sorgenti e Amaldi per l'interessamento e l'aiuto che gli ha dato l'argomento che affronta è di estrema attualità e riguarda l'assorbimento selettivo dei neutroni lenti da parte dei vari nuclei che era stato scoperto recentemente da Tillman e Moon e comunica a Nature nel 1935 rispetto a Tillman e Moon Ponte Corvo cambia la geometria dell'esperimento e ha grande successo nel senso che i risultati che ottiene sono importantissimi e verranno ripetutamente citati nella letteratura subito dopo questo lavoro pioneristico di Ponte Corvi Fermi e Amaldi danno avvio a uno studio sistematico sull'assorbimento selettivo proprio sullo stesso argomento dei neutroni lenti che verrà poi esteso anche alla loro diffusione e al loro rallentamento i risultati di Fermi e Amaldi verranno pubblicati in una serie di sette lettere alla ricerca scientifica tra il novembre e il maggio del 1936 e un articolo conclusivo sul Physical Review del novembre 1936 la disposizione sperimentale da loro usata per studiare appunto questo assorbimento selettivo dei neutroni lenti è identica a quella inventata da Ponte Corvo stranamente Ponte Corvo non collabora con Fermi e Amaldi a queste ricerche neppure nella loro fase iniziale comunque il suo lavoro viene da loro citato assieme a quelli di Tillman e Moon e anche di altri Ponte Corvo collaborerà invece nello stesso periodo sulla diffusione dei neutroni lenti con Giancarlo Vic che è un giovane fisico teorico e assistente di Fermi realizzando insieme nel caso di alcuni nuclei medi e pesanti una serie di esperienze in modo parallelo a quanto veniva fatto da Fermi e Amaldi e in completa autonomia ci sono questi due programmi paralleli la disposizione sperimentale era sempre quella inventata da Ponte Corvo e usata prima i risultati raggiunti verranno riportati in due articoli al nome di Ponte Corvo e Vic ve lo indicate lì pochi giorni dopo l'invio dell'ultimo articolo Ponte Corvo in anticipo rispetto alla scadenza del suo incarico a Roma ma in sintonia con i tempi imposti dal Ministero dell'Educazione nazionale appunto per l'utilizzo della Borsa di Studi a Parigi si dimette dall'Università di Roma e mai più ne farà parte questa è la lettera di dimissioni dall'Università di Roma a partire dal 15 marzo 1936 che viene presentato appunto il 7 marzo del 1936 il 15 aprile 1936 si trasferisce presso il laboratorio Curie dell'Istitut Duradium di Parigi l'arrivo di Ponte Corvo è preceduto da una lettera di presentazione di Fermi molto formale scritta il 26 febbraio del 36 quando ormai Ponte Corvo aveva già deciso tutto scritto tutto fatto tutto e questa lettera appunto Fermi la indirizza Giulio e dice uno dei miei allievi Bruno Ponte Corvo ha recentemente vinto una borsa per perfezionarsi all'estero poiché egli desidera venire a lavorare a Parigi io vi sarei grato se lo poteste accogliere nel vostro laboratorio Ponte Corvo che ha già lavorato nel nostro istituto su delle questioni di fisica nucleare amerebbe molto a prendere qualche nuova tecnica poiché Ponte Corvo deve trovarsi all'indirizzo scelto per i suoi studi entro il 13 marzo prossimo vi sarei grato se poteste rispondermi subito qui abbiamo trovato a Parigi la lettera di risposta di Giulio chiaramente la velina Ponte Corvo viene accettato volentieri per mostrargli alcune tecniche apparati di Wilson alta tensione scrive Giulio la vicenda di questa borsa di studio sembra quanto mai strana a quanto pare quando nel mese tra il 19 ottobre e il 18 novembre 1935 Ponte Corvo ha indicato al Ministero dell'Educazione Nazionale come sede scelta all'Istitut du Radium di Parigi Giulio non era stato ancora avvertito da Fermi solo in prossimità della data in cui Ponte Corvo deve assolutamente essere a Parigi pena la decadenza della borsa Fermi contatta Giulio non pare possibile che Ponte Corvo indichi ufficialmente al Ministero dell'Educazione Nazionale la sede dove intende andare senza essere sicuro che questa sede sia disponibile ad accoglierlo o quantomeno senza un contatto preliminare viene voglia di pensare che Ponte Corvo abbia contattato personalmente Giulio già a ottobre del 35 in questo contesto ricordiamo anche un fatto molto significativo Fermi scopre gli effetti dei neutroni lenti sabato 20 ottobre del 34 dai quaderni di laboratorio all'Istitut du Radium che abbiamo consultato possiamo verificare che Giulio compie esperimenti con neutroni rallentati da paraffina fin da venerdì 26 ottobre quindi ci possiamo chiedere esistevano canali di collegamento Roma-Parigi fin da allora? com'è possibile questa cosa? va bene l'attività svolta da Ponte Corvo in questi primi sei mesi a Parigi è notevole cioè non si tratta affatto di una semplice acquisizione di nuove tecniche come dice Fermi ma di importanti ricerche originali Ponte Corvo prosegue le sue ricerche sull'assorbimento dei neutroni lenti iniziate a Roma continuando a utilizzare un contatore Geiger-Müller del tipo sempre usato mostra l'esistenza di una disomogeneità della radiazione gamma emessa va bene e dimostra anche altre cose relative sempre ai livelli energetici del nucleo su questa ricerca che lo spingerà poi a interessarsi dell'isomerismo nucleare pubblica due lavori firmati Bruno Ponte Corvo Laboratoire Quiry Institut du Radium uno su una rivista italiana come era richiesto per chi si recava all'estero con una borsa di studio uno su un'importante rivista francese vabbè ci sono i ringraziamenti questa è la prima pubblicazione in Francia già il 22 luglio del 36 dopo la scadenza dalla borsa del Ministero dell'Educazione nazionale che è il 15 ottobre 36 dal 1 gennaio al 30 giugno 37 usufruisce per sei mesi di una borsa di studio francese una delle bourre de curie fondate da André Carnegie il 13 marzo del 37 dopo circa un anno che è a Parigi e mentre sta per scadere la borsa francese che è del 36 37 viene finalmente bandito a Roma il posto di ruolo di assistente universitario previsto sul suo vecchio posto di assistente incaricato Ponte Corvo ha finalmente la possibilità di tornare a Roma su una posizione accademica sicura in un primo momento chiede al rettore di Roma la documentazione relativa alla sua precedente posizione di assistente incaricato per partecipare alla competizione riceve tutta la documentazione ma non farà domanda sceglie di restare a Parigi infatti Ponte Corvo è l'uomo delle scelte naturalmente viene da pensare che le attrezzature a Parigi erano molto più avanzate che non a Roma in particolare per gli impianti ad alta energia cioè sta nel posto dove ha maggiori possibilità scientifiche giustamente la borsa Curie Carnegie sarà rinnovata di sei mesi in sei mesi fino al dicembre del 39 quando otterrà una posizione di ricercatore sui fondi della Cassi Nazionale delle Récherche Scientifiche chiedo scusa per il mio francese l'attività che svolge in Francia prima all'Istitut du Radium e poi al Collège de France presso il laboratorio di chimica nucleare e che rappresenta in grande scala la continuazione di quanto fatto a Roma lo renderà famoso a livello internazionale dal suo primo studio in Francia sulla disomogeneità della radiazione gamma di cattura dei neutroni lenti e dalla sua interpretazione in termini di cattura dei neutroni in livelli nucleari differenti e tra loro molto vicini nasce infatti l'interesse di Ponte Corvo verso l'isomerismo nucleare inteso come un nuovo mezzo di indagine sulla struttura del nucleo assieme all'idea che possono esistere anche isomeri beta stabili cioè non radiattivi dal punto di vista della radiazione beta il cui studio appunto sarebbe stato molto più facile questa idea perseguita con tenacia alla fine si mostrerà vincente e lo porterà nel 38 assieme a Dodè alla scoperta di un primo isomero beta stabile del cadmio e nel 1939 assieme all'Azar alla creazione tramite bombardamento con raggi X di un primo isomero beta stabile dell'Indio riguardo a quest'ultimo risultato Fermi gli scriverà da New York il 4 febbraio del 39 caro Pontecorvo ora lo chiama Pontecorvo non Bruno caro Pontecorvo mi congratulo assai per l'ottimo successo della ricerca da notare questo per i nostri colleghi pisani da notare che in queste ricerche veniva utilizzato un contatore Geigemüller sempre del tipo che Pontecorvo aveva imparato a costruire a Roma ma leggermente modificato proprio come aveva studiato ha studiato Cavasini di Pese altro che nuove tecniche da imparare a Parigi a Parigi sono presenti mezzi molto più potenti che lui riesce a utilizzare alla grande questa è la lettera di Fermi a Pontecorvo con la quale lui si congratula i suoi stretti rapporti scientifici di amicizia con i Joliot Curie soprattutto con Frédéric Joliot erano noti a tutti e sono anche testimoniati dal fatto che Pontecorvo alla fine del 37 scriverà le loro biografie scientifiche per l'enciclopedia italiana inoltre sono bellissime inoltre secondo molte testimonianze successive il periodo parigino segna l'inizio del coinvolgimento di Pontecorvo nelle questioni politiche ideologiche ecco questo è il manoscritto che abbiamo trovato la voce su Frédéric Joliot lunga e poi quella su Irene Curie che è molto più corta va bene come si è accennato anche dell'affinità politica di Pontecorvo con i Joliot Curie molto si è detto in particolare della sua conversione al comunismo durante il suo soggiorno a Parigi in realtà noi siamo andati negli archivi della Prefecture de Police in Roubaudin a Parigi e lì esiste un fascicolo Pontecorvo Bruno che porta al numero 509 1831 e che è molto molto scarno contiene solo pochi te l'ho detto che ti avrei deluso contiene solo pochi documenti di scarsissima importanza che si riferiscono al periodo dopo il 1950 quando Pontecorvo era sparito per ricomparire poi in Ursa sembra che la polizia politica francese non si sia mai occupata di Bruno Pontecorvo durante la sua permanenza a Parigi negli anni 30 l'inesistenza di informazioni relativi a questi anni è certamente molto strana Pontecorvo viveva a Parigi a quanto si dice molto coinvolto nell'attività politica attivo partecipante in manifestazione addirittura forse membro del partito comunista italiano clandestino maleficiente polizia fra virgolette efficiente polizia francese lo ignorava per confronto i fascicoli degli altri comunisti italiani anche semplici militanti di base sono ricchissimi e dettagliati si tratta di una vera e propria anomalia nel caso Pontecorvo ecco questa è la copertina del fascicolo che vi dicevo col numero intestato a Pontecorvo Bruno presso gli archivi della Prefecture de police a Parigi questa è fiche d'attenzione e a quanto pare si pensava addirittura che Pontecorvo potesse trovarsi in Francia dopo la sua scomparsa perché dopo il 1950 questa è una piccola nota in cui si comunica che Pontecorvo è ufficialmente residente a Arwell Gran Bretagna e qui il fascicolo continua anche un ritaglio di giornale di un articolo su Pontecorvo Bruno Savant matomist senza data ma certamente successivo alle dichiarazioni pubblicate su Pravda e Zvestia il primo marzo del 35 dove Pontecorvo spiegava i motivi della sua defezione in Urso perché vengono citati l'articolarista pare molto ben informato sulla traiettoria seguita da Pontecorvo prima di sparire infatti dice partito da Roma per Stoccolmo cambia di aereo a Monaco verso Copenaghen da qui a Stoccolmo in ferry boat e poi verso Helsinghi dove arriva il 2 settembre con tutta la famiglia per poi sparire senza lasciare tracce è bellissimo sono significative comunque alcune imprecisioni che forse gettano luce sulle possibili fonti dell'articolo peraltro ben documentato come ho detto viene detto che Pontecorvo tiene il suo doctorat de physique nel 1934 invece nel 1933 abbiamo detto questo errore sulla data di laurea di Pontecorvo compare per la prima volta nel libro Atomi in famiglia di Laura Fermi ed è stato successivamente ripetutamente proposto e poi l'altra imprecisione che viene detto che Pontecorvo si trasferisce in Francia nel 1938 in seguito alle leggi razziali invece abbiamo visto che il trasferimento avviene nel 1936 quando le leggi razziali non esistevano affatto è comunque sconcertante che la polizia francese usi notizie di seconda mano quale un articolo di giornale su un caso così importante quale la defezione di un savant atomist come viene definito le competenze e l'interesse di Pontecorvo verso i neutroni lenti avranno uno sbocco naturale non solo nelle sue ricerche svolte a Parigi ma anche nella sua attività successiva negli Stati Uniti e in Canada nel 1940 a causa dell'andamento negativo della guerra Pontecorvo fa rifugiare la moglie Marianne col figlio Gila a Toulouse poi in concomitanza con l'avanzata delle truppe tedesche su Parigi riesce a fuggire in bicicletta in treno e a ricongiungersi con la famiglia nel frattempo è riuscita a ottenere con l'appoggio di Fermi e di Segret che erano già negli USA un impiego negli Stati Uniti a Tulsa in Oklahoma presso una società privata petrolifera e questo gli permette di ottenere il visto d'ingresso cioè prima all'impiego e poi il visto dopo un viaggio avventuroso in treno attraverso Spagna e Portogallo i Pontecorvo nell'agosto del 40 si imbarcano sulla famosa motonave Quanza e sbarcano a New York senza intoppi il lavoro applicativo negli Stati Uniti è estremamente interessante qui Pontecorvo in vita inventa una brillante tecnica di sondaggio dei pozzi di petrolio tuttora attuale il cosiddetto carottaggio neutronico fondata proprio sull'assorbimento dei neutroni lenti e che ha rappresentato la prima importante applicazione pratica dei neutroni dopo due anni di permanenza negli Stati Uniti all'inizio del 43 si trasferisce in Canada a Montreal e a Choc River dove partecipa alla progettazione e alla messa a punto di un reattore di ricerca a uranio e acqua pesante riuscendo così a ritornare nella ricerca più avanzata in questa nuova attività per quello lui lascia negli Stati Uniti va in un posto in cui riesce a esprimere le sue competenze alla meglio in questa nuova attività le sue competenze sui neutroni lenti acquisite in tanti anni di lavoro si mostreranno fondamentali e lo porteranno in una posizione di primo piano all'interno di questo progetto anglo-canadese viene quindi chiamato da Cockroft in Inghilterra nel febbraio del 49 a partecipare alle ricerche nucleari nel centro di Arwell gli viene poi offerta agli inizi del 1950 una cattedra a Riverpool che accetta abbiamo la lettera d'accettazione nel luglio del 1950 ma che non ricoprirà mai sparisce all'improvviso nell'estate del 50 dopo un periodo di vacanze in Italia questa lettera di accettazione dopo un tira e molla con Liverpool alla fine decide di accettare e lo accetta il 24 luglio del 1950 ecco capire Ponte Corvo l'uomo delle scelte brevemente perché io è oltre dovevo fare Roma Parigi e un pequino oltre i rapporti tra Bruno Ponte Corvo ed Emilio Segre sono interessantissimi i rapporti tra Ponte Corvo e Segre sono stati sempre molto stretti dalla corrispondenza esistente il tono di Segre è sempre molto familiare addirittura affettuoso vediamo per esempio una lettera di Segre del 5 maggio 1940 quando Ponte Corvo è ancora a Parigi scritta su carta intestata dall'hotel Tulsa a Oklahoma Segre ha appena appreso che Ponte Corvo è stato assunto su sua raccomandazione a Tulsa dove lui aveva dei contati scientifici e gli comunica la notizia dandogli alcuni utili consigli e facendogli notare che il passaggio università-industria è piuttosto irreversibile anche se scoraggiante però era un momento molto difficile le forze armate tedesche avevano iniziato l'attacco contro la Norvegia e la Danimarca il 9 aprile occupando subito la Danimarca fino alla resa ottenuta nel corso di due ore e il 10 maggio era stato sferato l'attacco contro l'Olanda il Belgio e la Francia per Ponte Corvo è essenziale abbandonare il paese anche se deve abbandonare la ricerca questa è una scelta obbligata e l'aiuto di Segre è stato providenziale cioè gli ha permesso di avere un impiego negli Stati Uniti e quindi l'immediata concessione del visto di ingresso per sé e la sua famiglia ecco questa è la lettera tra le scelte di Ponte Corvo meglio documentate vi sono quelle relative al dopoguerra quando l'offerta di buone posizioni per i fisici è consistente dato l'ovvio successo delle ricerche e delle applicazioni ecco ancora una lettera di Segre datata 2 gennaio 1946 da Santa Fe New Mexico Ponte Corvo che si trova ancora in Canada sta valutando alcune interessanti offerte provenienti da Ann Arbor Rochester Berkeley Segre gli offre un'analisi comparativa con acute osservazioni sull'ambiente di lavoro e le possibilità di ricerca gli consiglia decisamente Berkeley dove Segre era stato assunto come full professor e si dichiara addirittura disposto a collaborare con Ponte Corvo nel gruppo pilologico se ci fosse anche lui questa è la lettera molto significativamente Segre sconsiglia da restare in progetti di guerra e da tornare in Europa Ponte Corvo è aperto ai consigli ma le sue scelte sono autonome e profondamente motivate da considerazioni scientifiche contro i consigli di Segre Ponte Corvo decide proprio di restare in Canada nel progetto del reattore ad acqua pesante infatti dopo essersi impegnato per anni nel reattore vuole vederlo funzionante per effettuare le sue ricerche quindi è giusto rimanere lì successivamente sempre contro i consigli di Segre decide di tornare in Europa di fronte all'allettante proposta di Cockroft di partecipare a un nuovo grande progetto osserviamo anche che un uomo accorto e profondo conoscitore del mondo come certamente è stato Segre mai e poi mai avrebbe fornito raccomandazioni e consigli a un soggetto per quanto effettivamente vicino su cui potesse gravare il minimo sospetto di comunismo le convinzioni politiche di Ponte Corvo per non parlare di effettivi coinvolgimenti pubblici come abbiamo visto sembrano ignote anche alla polizia politica francese cosa difficilmente comprensibile ma anche ad Emilio Segre cosa che pare francamente impossibile ecco sempre capire Ponte Corvo attraverso Fermi e attraverso la scelta di Dubna Bruno Ponte Corvo come è stato detto è universalmente noto anche per la sua defezione in Urso nel settembre del 50 in piena guerra fredda va bene molto sedeto su questo argomento noi ci limitiamo a una lettera che è stata citata prima da Walter Pega da questa lettera di Enrico Fermi del 13 marzo del 51 indirizzata al senatore Brian Mc Mahon presidente di una commissione di inchiesta del senato che si occupa tra l'altro della scomparsa di Ponte Corvo la lettera è la risposta ad una richiesta ufficiale del senato di fornire un rapporto intorno a Bruno Ponte Corvo Fermi che ormai è un leale cittadino americano risponde con la consueta sua chiarezza ed efficacia questa è la lettera rivediamo alcuni punti la profonda stima di Fermi verso Ponte Corvo viene subito espressa con la massima forza dice scientificamente egli è uno degli uomini più intelligenti con cui io sono venuto in contatto durante la mia carriera scientifica quindi detto da Fermi questa la dice lunga e poi sulle ragioni e le conseguenze della fuga naturalmente io non conosco le ragioni della sua presunta fuga in Russia la mia impressione personale sulle sue attività di ricerca è che lui non aveva molto interesse negli sviluppi atomici tranne che come uno strumento per la ricerca scientifica in particolare io non ricordo alcuna occasione in cui egli abbia trattato con me alcun argomento connesso con la tecnologia atomica egli non sembrava avere alcun interesse verso le armi atomiche per queste ragioni la mia impressione è che se è andato in Russia egli non può contribuire al loro lavoro tramite le cose imparate durante la sua connessione con i progetti canadese e inglese ma piuttosto tramite la sua competenza scientifica generale questa naturalmente è solo un'opinione personale la frase finale ci consente ulteriori considerazioni io non ricordo che Ponte Corvo fosse molto interessata la politica e non ricordo nemmeno di aver avuto discussioni politiche con lui quindi emerge un quadro del convigilimento politico di Ponte Corvo quale appariva all'esterno molto diverso da quello comunemente noto e in parte accreditato dal Ponte Corvo stesso per esempio nel bellissimo libro intervista di Miriam Mafai pubblicato però molti anni dopo nel 1992 pare però che ci sia un accordo significativo tra quanto sostenuto da Fermi l'atteggiamento dalla polizia politica francesa che ha ignorato Ponte Corvo fino alla sua fuga e il generoso comportamento di Emilio Segre che lo ha raccomandato per andare negli Stati Uniti e lo ha sempre appoggiato in questo contesto è anche utile esaminare la questione della sua emigrazione in Russia soffermandosi sugli aspetti scientifici e accademici sotto ogni aspetto l'Unione sovetica era un paese altamente sviluppato dal punto di vista scientifico lo stesso meccanismo di rilancio come del resto hai detto prima lo stesso meccanismo di rilancio della ricerca scientifica in fisica che abbiamo visto in atto negli Stati Uniti funzionava anche in Unione sovietica i programmi scientifici erano grandiosi in particolare con la costruzione del grande acceleratore di particelle ad UBNA al cuore della scelta di Ponte Corvo ci saranno state le consuete profonde motivazioni scientifiche accademiche presenti in tutte le sue scelte precedenti oltre ovviamente altre scelte di tipo morale e politico Ponte Corvo si sarà sentito alquanto sacrificato sulla modesta cattedra di Liverpool molto ristretto nel suo sviluppo accademico con una semplice metafora potremmo dire che Ponte Corvo invece di Liverpool dove sarebbe stato costruito il più grande acceleratore d'Europa e questa è anche la motivazione di Liverpool sceglie UBNA dove era in costruzione il più grande acceleratore del mondo ancora come metafora tra una splendida villa nel boschetto circostante UBNA e una modesta residenza nella periferia di Liverpool alla fine sceglie UBNA le motivazioni ideologiche e politiche avranno costituito un utile quadro di complemento facilmente comunicabile per una scelta basata su sostanziali motivazioni scientifiche e accademiche osservazioni conclusive Bruno Ponte Corvo è certamente una grandissima personalità scientifica rivelatasi in pieno fin dalle sue primissime ricerche in spettroscopia atomica a Roma e nella scoperta degli effetti dei neutroni lenti nell'autunno del 34 il successo prosegue e si rafforza con la sua attività a Parigi negli Stati Uniti in Canada in Inghilterra e nell'Unione Sovietica le sue scelte tra diverse possibilità di lavoro e di ricerca sono sempre caratterizzate da profonde motivazioni scientifiche e accademiche in un quadro di grande correttezza morale e notevole coerenza culturale bene prossimamente speriamo di scrivere un libro ci siamo già messi e con questo finito grazie avrei fatto più conclusioni ma ho fatto oggi grazie Nadia per questa precisissima ricostruzione storica e in particolare per noi è importante l'insistenza sull'incompetenza della politica francese va bene che ultimamente che ci rassicura anche se penso che è diventato più efficace oggi però rimane un mistero è un mistero e dunque penso che ci saranno bravissima a nascondere ci saranno delle domande anche sull'intervento dell'amico Walter Tega Francesco se ci sono domande voglio che risponda anche Francesco ah sì certo perché anche lui è responsabile non so una domanda genua ma c'è stato un periodo in cui lo sparire di Ponte Corvo è stato paragonato alla scomparsa di Majorana c'è stato un momento in cui i servizi pensavano che la sua scomparsa era parallela cioè faceva pensare alla possibilità di uno sparire come Majorana l'ho sentito dire sì perché 12 anni dopo anni questo è un po' parodico no no grazie riesco a vedere un attimo anche te sì non ho trovato gran credo no cioè in Italia poi anche in caso di Federico Caffè ogni tanto qualcuno scompare no l'economista che è scomparso e non si è saputo più nulla se non che forse è andato in un convento ma neanche questo è sicuro però non era certo il caso Majorana ecco voglio dire io posso fare una domanda invece Nadia e a guerra cioè io devo dire che ho accentuato un momento il periodo francese non perché pensassi che l'inflessibile polizia francese sapesse anche di Ponte Corvo aveva ben altro di cui occuparsi sono gli anni che Parigi è il luogo in cui vanno tutti gli antifascisti italiani non c'erano soli comunisti c'era anche tutta la colonia e c'erano anche gli assassini politici che venivano compiuti a Parigi dalla polizia fascista italiana senza che la polizia francese facesse grandi opere di protezione pensa tu al caso di Nello e Carlo Rosselli e quindi voglio dire ecco io no io volevo solo dire una cosa anche guerra cioè dire in sostanza le lettere di Fermi che tu hai commentato dal punto di vista scientifico dal punto di vista del significato politico sono delle lettere di un'ambiguità assoluta cioè nel senso che sono lettere nelle quali si legge il maccartismo americano presente no nel senso di dire io faccio scienza e non faccio politica benissimo era una sorta di il dire il dire che in sostanza cioè mi sembrava che la lettera potesse essere decodificata anche in altro modo ma io mi riferivo a una cosa ed è una domanda che vi faccio cioè la influenza politica di Joliot su Fermi su Ponte Corvo a mio avviso è quello la cosa che mi interessa anche perché i partigiani della pace organizzano nel 1949 una conferenza a Parigi dove ci sono 2872 delegati di 72 paesi poi vengono ostacolati tutti quelli che venivano dagli Stati Uniti e da altre parti e più il dodicesimo li condanna subito il giorno dopo la relazione di quella grande conferenza fu tenuta da Joliot Curie ed è esattamente il testo che è rielaborato diventa il testo che i partigiani per la pace pubblicano a Stoccolma nell'assemblea mondiale che fanno nel marzo del 1950 allora io non credo che ci siano influenze credo che però si respirino dei climi come dicevo prima a proposito del modo in cui la politica estera degli stati cambia anche i destini degli scienziati perché Ponte Corvo va là per fare un'operazione e poi non riesce mentre riesce quella scientifica io sono d'accordissimo Ponte Corvo aveva in mente per quel poco che ne ho capito sempre il luogo in cui si potesse svolgere una ricerca di alto livello questo mi sembra chiaro non solo ma questo problema della sorpresa degli europei dell'occidente degli italiani sulla Russia che lui giustamente smentisce era smentita dai fatti là c'era una ricerca scientifica di altissimo profilo ecco a me sembrava e ho finito che la questione di fondo fosse questa a un certo punto Ponte Corvo è quel che riguarda la sua dimensione politico morale che è una cosa diversa da quella scientifica non era né un grande teorico della politica né dell'etica era un grande scienziato quindi voglio dire la politica e l'etica per lui erano la vita quotidiana e quindi quando va in Russia associa due cose il livello della ricerca e c'è l'uomo nuovo poi rimarrà deluso dall'uomo nuovo non da ricerca semmai ecco io volevo dire che in definitiva sarebbe interessante allora sapere qualcosa di più preciso sull'influenza culturale che può aver avuto Joliot cioè sul fascino che può aver esercitato Joliot su questa operazione Joliot era un grande personaggio in Francia l'hanno studiato ma forse non sotto questo aspetto e allora sul problema dei partigiani per la pace io per quanto riguarda la mia conoscenza acquisita anche delle vicende che riguardano quella parte della politica che il movimento comunista internazionale allora faceva loro avevano scommesso tutto sulla scienza per la pace dopo il 48 e in Italia dopo la sconfitta elettorale del 48 perché il rilancio del partito comunista della politica del partito comunista di Togliatti dopo il 48 è quella sulla pace per questo quando prima dicevo tutti gli elettori del partito comunista in Italia erano iscritti più o meno al movimento dei partigiani per la pace che si costruisce dopo ma si scrive appunto nel 49 perché era una forma di reazione a una politica filoamericana che aveva conquistato l'Italia l'Italia nel 48 diventa un'altra cosa c'è la rottura del governo internazionale è un fatto della nostra storia lì c'è un problema di fondo che è il problema del modo in cui la scienza può diventare lo strumento di pace diventa un argomento di politica internazionale è un problema di strategia politica dei partiti questo a me sembrava l'argomento e secondo me studiando meglio Joliot Curie forse capiamo anche di più io sono totalmente d'accordo con quanto sta dicendo perché prima di tutto sono sicuramente d'accordo e domani lo farò vedere lo ridirò con forza che Bruno Pontecorvo è andato in Russia per due motivi ben chiari uno per andare a fare ricerca di punta perché c'era l'acceleratore il più grande esistente nel mondo in quel momento e vedremo le ricerche che farà a Dubna con questo acceleratore con i suoi appunti guardando i suoi appunti secondo lui è andato lì perché pensava che lì ci fosse la società nuova quella che effettivamente risolverà il problema dell'umanità diciamo che è l'uomo nuovo e lui lo dice in tutte le salse lo dice all'ammafai lo dice nella autobiografia nella sua autobiografia eccetera per cui penso che questi sono i due argomenti sostanziali per cui lui è andato in Russia e ci è andato volentieri contento e totalmente soddisfatto della sua scelta io trovo invece quindi trovo abbastanza poco credibile quello che Nadia invece sostiene che lui no no che lui come come diciamo persona politica era un po' debole ecco questo non lo credo non lo credo perché appunto lui a parte che l'ha sempre detto che lui credeva fermamente nel comunismo e sostanzialmente quando è andato a Parigi lui dice mi accorgo che qui a Parigi c'è un altro clima c'è tutto un altro mondo piglia la testa del partito comunista italiano cioè dopodiché lui è un comunista convinto domani vi farò vedere un disegno di Mischa Bilenchi di Bruno Pontecorvo bambino che a Pisa vede giusto appunto i primi movimenti operai e parla del padre che si oppone al gerarca fascista e così via mi è venuto in mente il nome era Bufalini sì Bufalini era Bufalini il gerarca fascista quindi diciamo e in questo disegno fatto da Mischa Bilenchi quando sono a Dubna diciamo questo disegno perché lo fa lo fa perché Bruno Pontecorvo evidentemente gli racconta che la sua formazione di sinistra nasce da bambino per cui voglio dire non è una cosa che lui dice che ne so quando torna in Italia quando tutto si è ricreduto eccetera lo dice quando proprio lui vive quella vita lì a Dubna per cui io secondo me se diciamo ho scoperto ora che nella lettera di Fermi dice che effettivamente lui si interessava di poco di politica io penso che lo dica per difenderlo ecco non perché sia così ecco io di questo allora perché poi in Francia la polizia non lo prenda in considerazione troppo seriamente questo non lo so diciamo forse non lo considera è un personaggio minore rispetto a Juliot è un personaggio minore nella politica francese no cioè lui vive all'ombra di Juliot in Francia altrove no ma in Francia vive all'ombra di Juliot questo è evidente Juliot è un personaggio politico comunista eccetera di prestigio come no mentre invece Ponte Corvo si sta formando in quel momento è ancora un giovane comunista che non ha l'influenza e l'importanza che poteva avere Juliot quindi non è anche quello potrebbe giustificare che insomma che la polizia francese insomma si sa che è un comunista però lo prende troppo in considerazione ecco esco allora io dico qualche cosa queste considerazioni ovviamente le condivido se vi leggete gli articoli nostri che abbiamo scritto su Ponte Corvo in Francia vedrete ci sono varie considerazioni da fare innanzitutto c'è da porre 1940 un un momento cruciale cioè c'è un Bruno Ponte Corvo prima in Italia prima in Roma poi a Parigi poi c'è 1940 in cui invece Bruno Ponte Corvo viene scagliato lontanissimo in tutt'altro posto negli Stati Uniti nell'industria privata e poi successivamente viene cooptato nel programma nucleare che si chiama anglo-canadese è un eufemismo cioè ci sono c'è una lettera del direttore che dice guardate è anglo-canadese americano però non bisogna dirlo quindi noi ancora continuiamo a dire anglo-canadese ma quello era anglo-canadese americano allora prima del 1940 e dopo la polizia politica francese certamente se uno vede il dossier di Luigi Longo è un dossier gigantesco in cui lo seguono punto per punto addirittura fanno un'analisi psicologica e intellettuale del personaggio cioè la polizia politica francese è talmente competente da riconoscere una grandissima intelligenza in Luigi Longo anche se le sue posizioni ovviamente mentre purtroppo di Teresa Noce che strettamente collegata con Luigi Longo viene data una valutazione molto negativa da fondista culturale non so per chi è passato tanto tempo quindi si può dire poi sono quindi Togliatti Togliatti arriva lì con tutti i documenti in regola con tutte le cose poi ci sta Emilio Sereni cioè Sereni il parente il cugino di Ponte Corpo ma il fatto è che il singolo militante è impressionante vedere sul singolo militante cioè c'è il il muratore che si trasferisce da Nizza si trasferisce a Parigi gli si dice proprio si vedono tutti i percorsi di dove abitava si dice abitati in una casa lì al quartiere Coso che prevede un fitto di tanto cioè loro seguono capillarmente allora una cosa che bisogna stare attenti a non fare è di non ricostruire la posteriore ci sono delle ricostruzioni in cui si dice Ponte Corpo stava lì a fare le manifestazioni contro la guerra in Spagna con una grande bandiera rossa che agitava nei cortei eccetera ora se uno agita una grande bandiera rossa in un corteo dopo tre minuti dopo tre secondi la polizia politica lo individua quindi c'è nell'opera storica c'è sempre un'inevitabile ricostruzione a posteriori allora quando far venire fuori questa diciamo presenza di sinistra addirittura comunista di di Bruno Ponte Corpo non certamente nel 51 diciamo quando stava lì e ovviamente un po' prima quindi 49 48 però 36 andrebbe addirittura meglio o nell'infanzia andrà addirittura meglio cioè c'è una coerenza del personaggio che implica naturalmente un decorso continuo della della sua evoluzione ricostruiamo tramite le testimonianze però io che Ponte Corpo stessa sventolare a bandiera rossa però fa parte di una testimonianza l'iscrizione al partito comunista Ponte Corpo non dice mai di aver preso la tessera del partito comunista perché sarebbe una grossa diciamo bugia Ponte Corpo dice a quell'epoca le tessere non esistevano e quindi io ho manifestato al compagno Longo di voler aderire e così via far parte del partito comunista clandestino a quell'epoca era una cosa molto molto complicata perché uno si doveva si doveva difendere quindi uno faceva un'application cioè chiedeva tramite amici eccetera poi il comitato esaminava accuratissimamente la domanda venivano dati dei compiti di tipo molto molto delicato quando venivano risolti questi compiti alla fine uno diventava membro del partito comunista italiano clandestino era una procedura complicata Ponte Corpo però ne parla con la mafai ma è tantissimi anni dopo non dice ho preso la testa non dice ho preso la testa dice chiaramente a quell'epoca le tessere non esistevano invece esistevano a quell'epoca le tessere non esistevano e manifestai la mia con con Longo la mia visione è una cosa molto sfumata cioè chiaramente era una persona che stava con una una un'evoluzione allora fino a 1940 nel 1940 momenti drammatici perché la Danimarca la Danimarca si arrende nel giro di due ore dalle 5 e 28 del mattino alle 7 e un quarto mi pare non mi ricordo quando viene data cioè la Danimarca si arrende nel giro di due ore non è che alla Francia va molto meglio perché quelli sfondano subito sfondano subito in Olanda sfondano subito in in Belgio passano attraverso le Ardenne e quindi in due c'è una morsa li chiudono a Dunkirk e poi dopo la Francia è senza e senza alcuna difesa quindi è un momento drammatico in questo momento drammatico in cui la soluzione per Ponte Corpo non c'è invece gli viene dopo l'insuccesso cioè la Westinghouse la borsa di studio della Westinghouse su cui Fermi l'appoggio moltissimo non funziona perché c'erano tante altre tante altre domande invece Emilio Segri che era consulente della della società petrolifera a Tulsa raccomanda Ponte Corpo Emilio Segri vuole molto molto bene a Ponte Corpo cioè si vede che esiste una stima reciproca non solo dico anche una cosa esagerata che spero non sia troppo diciamo trasmessa queste lettere di Emilio Segri hanno un contenuto umano ricchissimo cosa che dice uno il basilisco no? è un basilisco umano è affettuosissimo nei confronti di Ponte Corpo che è così? Emilio Segri fa sì che Ponte Corpo abbia un posto negli Stati Uniti in situazioni difficilissime società privata di cui lui era consulente con questo posto Ponte Corpo ottiene il visto di ingresso negli Stati Uniti perché ovviamente aveva un impiego non solo addirittura il consolato il consolato americano gli permette di andare negli Stati Uniti senza un passaporto valido perché Ponte Corpo non aveva avuto non aveva un passaporto che gli consentisse un passaporto italiano lui era cittadino italiano gli consentisse il poter andare negli Stati Uniti però il consolato americano gli dà un documento valido a tutti gli effetti e quindi lui si imbarca poi fa questo viaggio spettacolare insomma chi di voi sa la storia della guanza è una cosa proprio questa guanza motonave poi spiegherò a chi è interessato anche che significa la parola guanza faceva servizio tra l'Africa portoghese e Lisbona poi arrivato a un certo punto c'è una tale regista di movimenti transatlantici l'abbiamo visto in Casablanca per esempio è tipico c'è una tale regista di movimenti e loro per il business decidono di fare questo viaggio e il viaggio a cui parteciva Ponte Corvo è il primo di questi viaggi della guanza la nave ci sanno un sacco di altri passeggeri tra cui il duccio Tabet con il figlio Eugenio che era un altro però Ponte Corvo aveva il posto negli Stati Uniti il visto moglie e figli e quindi a Ellis Island lui sbarca tranquillamente gli altri non sbarcano vi faccio vedere io la copia del documento di sbarco in cui c'è una lunghissima lista di passeggeri a cui viene rifiutato perché non avevano il visto è Ponte Corvo che è il visto ma gli altri non ce l'hanno poi ci sono le altre storie che loro tentano di andare nel Messico quindi la guanza sbarca pure nel Messico le autorità messicane assolutamente non danno il permesso poi tornano verso gli Stati Uniti fanno fanno carbone a Norfolk e lì gli avvocati americani riescono a bloccare la nave per 4-5 giorni nel frattempo questi movimenti di aiuto per i rifugiati per i rifugiati europei in particolar modo la moglie del presidente quindi la signora Roosevelt fa sì che gli Stati Uniti finalmente contro il parere del Dipartimento di Stato americano diano un visto di ingresso a questi che non avevano nessun'altra possibilità tornare a Lisbona sarebbe stato sarebbe stato catastrofico quindi c'è questo bellissimo viaggio sulla guanza in cui c'è il viaggio degli altri e dai documenti di sbarco vengono respingi e poi c'è Ponte Corpo che arriva lì bello tranquillo e va lì poi va a Tulsa e ha il suo posto ma voi immaginate 1940 Segre ancora non aveva un posto stabile negli Stati Uniti e Segre avrà il primo posto stabile dopo il Plutonio dopo Hiroshima e Nagasaki non aveva un posto stabile sotto il ricatto di Lawrence che gli diceva che gli dava 300 dollari poi gliene dette 200 perché sapeva che Segre non poteva tornare in Italia anzi questa consulenza con la società di Tulsa era uno degli introiti maggiori di Segre come lui dice in una lettera allora voi immaginate Segre rifugiato quindi impossibile tornare in Italia senza posto stabile negli Stati Uniti raccomanda una persona di cui lui aveva grandissima stima per il posto e quindi il visto e quindi l'ingresso degli Stati Uniti una persona di cui lui aveva grandissima stima ma se ci fosse stato il minimo sospetto proprio minimo minimo Segre poi era oggettivamente pericoloso fare altrimenti il minimo sospetto lui si impegnava tanto lui lì sarebbe Segre sarebbe rimasto per sempre come quello che aveva aveva immaginato quindi non sottovalutiamo Segre ma non sottovalutiamo nemmeno Fermi Fermi può essere ambiguo però Fermi in quel momento sta testimoniando presso una una commissione ufficiale del congresso in piena guerra fredda con l'inizio del mercartismo eccetera quindi lui dice le cose che dice tutte le cose che lui dice poteva ometterle semplicemente per esempio il fatto politico poteva semplicemente ometterlo o il fatto che Ponte Corvo non fosse interessato nelle armi nucleari poteva semplicemente semplicemente ometterlo però se uno guarda l'essenza della testimonianza di Fermi è precisissima Fermi è uno preciso è uno diretto è uno dice esattamente tutte le cose che dice per esempio Fermi in quella lettera dice che alcuni parenti di Ponte Corvo erano membri del partito comunista italiano lo dice poteva non dirlo perché non gli era stata chiesta l'opinione sui membri della famiglia era stata chiesta l'opinione su Ponte Corvo quindi fino al 40 c'è certamente un'evoluzione di Ponte Corvo verso aspetti sociali ideologici e così via però Ponte Corvo ha un visto d'ingresso negli Stati Uniti resta negli Stati Uniti per un certo tempo poi viene chiamata a partecipare al progetto anglo-canadese americano e va a fare il reattore il reattore nucleare di ad acqua pesante adesso non si pensi che i reattori servano a produrre l'energia elettrica dieci anni dopo poi Calderone eccetera si è fatta energia elettrica il reattore serve a produrre il plutonio a quell'epra come l'hanno prodotto come l'hanno prodotto tutti quanti quindi era un progetto lui va per le sue competenze sui litroni e va lì se ci fosse stato il minimissimo minimissimo sospetto da parte di questa gente Ponte Corvo restava nella società americana nella società privata strettamente strettamente controllata non lo facevano certamente andare lì ulteriore maturazione negli anni 40 questo qui è possibile ora Ponte Corvo ne parla dice tutta una serie di cose e così via sono tutte cose che vengono dette molti 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 anni anni dopo quindi poi vanno verificate ci sono due modi di fare storia o si ragiona ovviamente sulle testimonianze si mettono d'accordo tra di loro abbiamo visto sui neutroni lenti per esempio Ponte Corvo lo racconta in un modo che sostanzialmente collima con quello di Fermi però ci sono altri che lo raccontano lo raccontano in un modo completamente diverso quindi uno come si ricorda quello che succede però per fortuna ci sono i documenti ci sono le registrazioni di laboratorio la scoperta quando è stata fatta il 20 ottobre e il 22 ottobre la registrazione di laboratorio di Fermi è del 20 ottobre il 20 ottobre e sabato poi durante sabato e domenica ci sono altre decine di esperimenti fatti da Fermi sui neutroni lenti usando appunto la paraffina o l'acqua ci sono le schede di laboratorio di sabato 20 e domenica 21 ottobre e poi il 22 Fermi comunica e così via quindi certamente c'è questa maturazione di questa maturazione di Ponte Corvo lui si chiede è più importante fare le scelte giuste o essere una brava persona Ponte Corvo è una brava persona lui si è sempre sforzato di fare le ricerche le scelte giuste nella relazione noi abbiamo cercato di porre rilievo che sulla decisione di andare nell'Unione Sovietica c'era un forte nucleo di tipo scientifico scientifico e accademico perché la sua posizione a Liverpool era una cosa modesta modesta noi lo diciamo simbolicamente nel fatto che se uno vede la periferia di Liverpool che era di uno squallore terribile è la periferia di Mosca dove non sta vicino Mosca e ci sono andati nel trenino con le contadine con le galline che trasportavano le galline e così via è un posto spettacolare l'istituto è spettacolare ci sono stati parecchi anni dopo però insomma la ricerca era avanzatissima le competenze scientifiche avanzatissime perché la bomba atomica Kurchatov ma poi TAM che ha fatto la bomba termonucleare i sovietici erano avanzatissimi allora quello che noi diciamo è che c'è un nucleo molto forte con motivazioni scientifiche e accademiche che fanno andare Pontecorvo nell'Unione Sovietica se Pontecorvo era comunista e l'Unione Sovietica era arretrata Pontecorvo non sarebbe andato nell'Unione Sovietica questa è la nostra opinione invece uno ha una società scientifica una comunità scientifica molto bene sviluppata con grandi progetti con grandi cose in più lui certamente non era contrario diciamo era con legami che bisogna vedere in maniera più o meno adesso io voglio dire semplicemente io diciamo provengo in maniera molto molto stretta da quel tipo di esperienza io ho quasi il sospetto che un comunista italiano fine anni 40 mai sarebbe andato nell'Unione Sovietica i comunisti italiani sapevano benissimo la situazione dell'Unione Sovietica fin dagli anni 30 c'erano stati diciamo i noti episodi il compagno Robotti che non è il padre non è il padre e ci sono le testimonianze proprio dirette di comunisti italiani che erano riusciti a scappare al momento giusto perché Beria e la polizia la polizia politica stavano le loro calcagne e dico una cosa che sembra strana ma c'è una testimonianza addirittura il compagno Stalin li ha avvertiti di dito e scappate perché qui la situazione la situazione si mette male se non ci sono queste forti ragioni queste forti ragioni accademiche e scientifica il comunista italiano che stava diciamo vicino agli organi dirigenti del partito c'erano state polemiche terribili Terracini fin dagli anni 30 e poi erano continuati anni 50 e Togliatti chiamato eh? sono sempre state le polemiche Togliatti chiamato da Stalin a dirigere la cosa e lui dice no devo stare in Italia poi quelli invadono la la l'Ungheria e Togliatti via italiana al socialismo che è proprio la cosa che quanto più quindi il rapporto partito comunista italiano Unione Sovietica era un rapporto dialettico non erano i comunisti italiani non erano diciamo dei dilettanti l'atteggiamento era un atteggiamento molto critico molto critico e realista realista ora io dico noi abbiamo bisogno di altri documenti se vi vedete una prima versione di questa relazione era molto era molto più era molto più tagliente abbiamo bisogno di nuovi documenti finora certamente fino al 40 il coinvolgimento di Ponte Corpo al più è di tipo ideale al più è di tipo appunto morale culturale così via perché lui sapeva la famiglia il duello che doveva esserci con il poi uno parte dall'Italia il fascismo non era una cosa bellissima nemmeno per persone molto ben inserite dal punto di vista dal punto di vista accademico accademico e scientifico abbiamo bisogno di nuovi documenti però prima del 40 secondo me la situazione è abbastanza chiara poi evoluzione negli anni 40 e così via una cosa è sicura che l'Unione Sovietica era un posto ottimo dal punto di vista scientifico e accademico questo è il nucleo della scelta noi perciò abbiamo esaminato tutte le scelte Pisa-Roma è chiaro Roma-Parigi è anche ben motivata perché lì avevano un tubo per i raggi X spaventoso cosa che poi in Italia non si è riuscita a fare Poi Parigi-Tulsa lì si prende quello che capita perché non c'è altra scelta però qui segreto è fondamentale Poi Tulsa Tulsa-Canada è chiaro andava a fare ricerche scientifiche con il reattore nucleare tenete presente io devo dire solo un numero le sorgenti Radon-Beriglio di Fermi con cui hanno fatto l'esperienza vinto il premio Nobel eccetera producevano qualche milione di neutroni al secondo milioni di neutroni sembra molto ma ovviamente non è proprio niente un reattore produce 10 alla 15 neutroni per centimetro quadro per secondo 10 alla 15 9 è miliardo quindi da 9 a 15 ci sarà produce 15 milioni di miliardi di neutroni al centimetro quadrato per secondo quindi è chiaro che la ricerca diventa tutta 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 un'altra cosa quindi è chiaro che fare un bel reattore d'acqua pesante è una cosa è una cosa estremamente interessante poi Cockroft lo fa andare in Inghilterra Cockroft era un personaggio quindi lui va lì noi vediamo continuità ogni volta scelta cioè Pisa Roma Roma Parigi Parigi Tursa questo qui è obbligato poi Tursa Canada Canada Arbel Arbel dell'Unione Sovietica ma no io non dico che lui non sia andato in Russia perché diciamo era solo comunista lui erano le due cose insieme che lo spingevano e lo perché solo per motivi scientifici non ci credo perché lui ha Chalk River è lì dove ha fatto le sue intuizioni più grandi in Canada le intuizioni più profonde che lui ha fatto sono lì ha fatto esperimenti di raggi cosmici con Higgs ha capito il Mu e quindi lì lui stava facendo ricerca alla massima diciamo al massimo livello anzi devo dire che andando a lavorare con le interazioni forti con l'acceleratore di protoni ma quasi quasi ha fatto un passo indietro perché diciamo ha abbandonato un pochino quello che era e che sempre ha detto essere le sue la sua aspirazione le interazioni deboli capire il Mu come decadeva i neutrini e così via quindi diciamo non dico che non sia andato interessato all'acceleratore sicuramente era interessato anche all'acceleratore però in Canada stava facendo ricerca ad altissimo livello anzi le cose più importanti le ha fatte lì ecco quindi insomma poi fosse solo stato comunista e basta non lo so è difficile entrare nella sua testa però una cosa sono sicuro che lui quando ha deciso di andare in Russia ha capito che lui dava un taglio alla vita sua e alla vita dei suoi figlioli fondamentale cioè sapeva che poi non ritornava dietro non era una scelta che poteva tornare indietro perché era una persona intelligente e chiaramente viste le condizioni delle condizioni politiche in cui le condizioni politiche di quel momento lui sicuramente sapeva che andando in Russia aveva fatto la scelta definitiva della sua vita non solo per sé ma anche per la sua famiglia quindi le motivazioni per andarci devono essere state fortissime e secondo me c'erano tutte e due molto forti tutte e due naturalmente mi sembra molto interessante la vostra indagine anzi però c'è una cosa guerra io prenderei in esame fino agli anni 40 la storia del mondo è in attesa di qualcosa dopo gli anni 40 no dopo gli anni 40 sono anni decisivi pensate solo alle vicende della guerra alla Russia come la Russia sia il luogo in cui il nazismo praticamente secondo me perde più là che alla sbarca in Normandia quindi è un dato e quindi quello che accade dopo la fine della guerra mondiale della seconda guerra mondiale è ancora più complicato perché dopo incomincia questa sorta di conflitto sempre ma è dichiarato sempre latente tra URSS e l'area americana e cambiano ancora molte cose credo che gli scienziati si siano trovati a mal partito soprattutto quelli che facevano questo lavoro allora premessa è innanzitutto uno scienziato che si trova a fare i conti a un certo punto anche con la politica se non fossero andati in Russia non staremmo discutendo in questo momento di ciò non solo però ci hanno fatto andare in Russia scusate ma non era mica un viaggio turistico primo e in secondo luogo perché la Russia ti prende e perché deve prenderti prenderti mica ti prende a fare l'esperto del come dire grafico ti prende per una ricerca fondamentale per una ricerca che è cruciale per la sua politica di potenza allora se ha preso se ha preso Ponte Corvo vuol dire che era ben gradito cioè vuol dire che le credenziali di Ponte Corvo erano altissime al di là del fatto sì che lui fosse o no coinvolto nella politica in maniera radicale e può darsi che questo coinvolgimento sia stato progressivo tant'è che lui poi si iscrive anche a anche là e si iscrive al Partito Comunista anche in Unione Sovietica dove avere la tessera del partito era più difficile che in Italia e gli viene data subito senza storie e quindi il problema è in anni difficili cioè voglio dire che in sostanza io volevo sostenere questa tesi e lui è andato in Unione Sovietica e ci è andato perché là c'era una ricerca di alto profilo indubbiamente era questa una scelta fondamentale però i sovietici l'hanno preso e mica prendevano tutti tant'è che Fuchs ne l'hanno preso gli ha fatto fare la spia se no prendevano Fuchs cioè vuol dire che in definitiva i sovietici avevano deciso che in quel momento Ponte Corvo serviva era affidabile erano affidabili i suoi garanti avrebbe avuto una funzione quello che è successo per cui io quando dico della dimensione politica non voglio mettere cioè non voglio fare di lui una sorta di filosofo che si occupa e di scienza e di politica voglio dire che si è trovato coinvolto in una vicenda politica forse anche più grande della sua che ha saputo gestire abbastanza bene però gli interlocutori erano due Ponte Corvo e la Russia e l'URSS e non è che Ponte Corvo potesse andare come non poteva andare in Inghilterra perché da Harwell lo mandano a Liverpool e io credo che lui a Liverpool non sia andato per tante ragioni non solo perché non c'era una grande attrattiva scientifica perché c'era uno conflitto accademico nel quale non voleva entrare e dunque non ci andava allora il problema fondamentale è che lui si è trovato di fronte a una situazione però qui gli interlocutori erano due allora io quando enfatizzavo il ruolo di Jodio Curi e del Cugino Sereni leggi Togliatti leggi partito comunista voglio dire insomma i conflitti c'erano ma c'era anche il fatto che il partito comunista italiano era un partito strategico per l'Unione Sovietica l'Italia era un posto strategico mica era un posto qualunque se no Togliatti l'avrebbe ramazzato subito quando era là quando al primo disaccordo erano rari i disaccordi togliatti rispetto a Stalin ma qualcuno c'è stato ecco allora a me sembrava un po' questo allora la dimensione è quella di dire beh poi in definitiva la scelta di Ponte Corvo è una scelta scientifica è una scelta politica ma anche quella della Russia è una scelta scientifica è una scelta politica e in mezzo c'è stata una grande mediazione tra scienza e politica tutto qua la grande mediazione conveniva a tutti non è vero cioè è un conveniva a tutti però però c'è un fatto no lasciano passare questi cinque cinque anni se conveniva in quel momento è uno perché cambia politica perché perché c'è una cosa dove è Turchetti in Turchetti non c'è però nel senso che lui lo scrive un po' nel senso e non è solo lui a scriverlo è anche questo inglese che ha fatto quest'ultimo libro è che in definitiva in quel momento la politica estera dell'Unione Sovietica cambia cioè quello che avevano cominciato a fare nel 49 nel 51 non lo fanno più cioè prima volevano schierare il mondo intero contro le bombe atomiche americane poi la bomba atomica ce l'hanno anche loro poi fanno anche quella idrogeno però qual è il punto? Il punto è che in quel momento incominciava la guerra di Corea e quindi la guerra fredda diventava una pericolosa guerra calda e la Russia cambia strategia non è più la scienza per la pace questa è la mia lettura però dovreste essere voi a dire quello che succede là nei cinque anni di silenzio lui fa molte ricerche fondamentali però abbiamo conoscenza dopo faccio una piccola pausa distensiva perché purtroppo non c'è stato possibile metterla nella relazione è un fatto molto commovente Fermi muore autunno del 54 Montecorpo era molto legato a Fermi da un punto di vista scientifico ma anche culturale affettivo e così via bene arriva a Laura Fermi la vedova arrivano le condoglianze ma quando arrivano? aprile la lettera è aprile molti mesi dopo perché lui non poteva scrivere e lui si scusa per il ritardo si scusa per il ritardo comunque è una lettera molto bella però riceveva l'unità tutti i giorni sì sì perché nonostante la differenza che ci separa lui ci teneva a fare queste condoglianze poi parla di Fermi come Fermi parlava di Ponte Corvo nelle lettere che abbiamo visto quindi una delle conseguenze di questi cinque anni fu che Ponte Corvo fece le condoglianze in ritardo di cinque o sei mesi a Laura Fermi altra cosa io anche il dossier di Gillo Ponte Corvo alla prefettura di Parigi comincia a fine degli anni 40 quando conoscevano gli Gigi come si chiamano cioè c'era questa comunità molto turbolenta fine anni 40 però il dossier Gillo Ponte Corvo anni 30 non si arriva a fine anni 40 no 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 stava negli anni 30 cioè in Miriam Mafai in Miriam Mafai Bruno Ponte Corvo racconta chiaramente che loro sono scappati da Parigi in bicicletta con Gillo che portava 40 nel 40 eh non si siamo a giugno 40 no portava le racchette da tennis e tutti i cittadini francesi dicevano pensare al tennis ma che arrivano arrivano i tedeschi quindi racconta questa la fuga da Parigi è grandiosa con le biciclette ecco c'è anche un altro documento importante che Sergio Di Benedetto un fisico molto molto bravo allievo di Bruno Rossi eppure lui deve scappare e loro scappano assieme da Parigi con Bruno Ponte Corvo e Sergio Di Benedetti ha fatto un resoconto bellissimo è anche pubblicato adesso è disponibile liberamente su questa fuga da Parigi ecco Sergio Di Benedetti non ricorda che c'era il Gillo quindi però è chiaro che poi è una distanza di tanto tempo il partito comunista a metà degli anni 40 non prima dopo ha fatto il partigiano dopo aveva fatto il partigiano ma ora se siete d'accordo sono state messi a fuoco tante domande questioni problemi eccetera forse possiamo vedere domani anche nella discussione noi esauriamo la tavola rotonda è appunto dunque grazie a tutti per questo pomeriggio ci ritroviamo domani alle nove di per per per